La Croce Rossa non va in vacanza, anzi, e organizza un campo estivo. E come si svilupperà l'iniziativa che vedrà il coinvolgimento soprattutto di numerosi giovani? Sì, Campo Giovani è un'iniziativa promossa da Croce Rossa Italiana in partnership con il Ministero della Giovendù e del Servizio Civile Nazionale, il quale ogni anno finanzia dei cambi al quale parteciperanno dei giovani dai 14 ai 20 anni provenienti da tutta Italia per far assaporare quelle che sono le attività che ogni giorno i giovani di Croce Rossa portano avanti in tutto il territorio nazionale. È un'attività che il nostro movimento e in particolare Croce Rossa Italiana crede fortemente e anch'io e il nostro comitato non possiamo far altro che abbracciare in pieno questi iniziati. All'incirca 30 sono i ragazzi che parteciperanno al nostro campo e siamo felicissimi di ospitarli tutti nella nostra struttura. E come si svilupperà il campo? Il campo è diviso per aree tematiche. Ogni giorno si tratterà un argomento tipico tra quelli che i giovani di Croce Rossa ogni giorno nelle piazze portano a termine. Tra questi la lotta all'omofobia, al pregiudizio, all'educazione e alle malattie sessualmente trasmissibili, alla sicurezza stradale e molto altro. Ma l'iniziativa si svilupperà all'interno di quattro muro oppure andrete in strada? No, il campo di per sé è all'interno della nostra struttura, la sede di Croce Rossa Italiana, ma durante la settimana ci sposteremo per attività ludiche e allo stesso tempo educative, quali l'acquapark nella quale faremo un'attività di campagna contro le ondate di calore o al mare nelle nostre spiagge di gela. Perché bisogna sposare il progetto Croce Rossa? Perché Croce Rossa dà la possibilità a questi giovani tramite un approccio quasi informale per far sì che questi ragazzi creino reti di amicizia tra di loro. Proprio già il fatto che provengano da tutte le città d'Italia fa sì che ci sia un certo scambio culturale tra questi ragazzi.